Signore e signori, siamo nel prato del mitico stadio Silvio Appiani, un po' di pubblicità. Trenfor, Trenfor, casa della poltrona Padova, con salotti in disposizione a Roncallia di Ponte e San Nicolò. Trenfor vuol dire qualità, sicurezza, risparmio. Caffè nero, caffè bianco, ma caffè bianco, signori, è un passo avanti nel senza caffeina. Due le squadre in campo, una la grappa, grappa Modin, la grappa di carattere. Alla gastronomia, Franco Capon, i migliori manicaretti della cucina a Veneta. Arte orafa, l'arte orafa dei figli di Alfredo Bortolozzo, sottoportico del municipio, quattro. Continua il cinema, concordi il successo del film? Ma papà ti manda sola? Con Bull Newman. Il nuraghe, oggetti sardi da ogni tipo ed epoca. L'omaggio floreale alla squadra ospite e gentilmente offerto dalla grande fioreria Rino Tognon. Ciao a tutti!